La masseria Casa Massima ha mantenuto nel tempo la suggestiva atmosfera, offrendo oggi uno scenario gradevole e curato nei minimi dettagli, perché possiate festeggiare le vostre nozze da favola e trascorrere dei momenti indimenticabili in compagnia dei vostri cari. Grazie a un attento restauro e a una grande cura per la conservazione dell'architettura originale, la masseria è una location autentica e affascinante. La sua grande corte interna sarà perfetta per un romantico ricevimento al chiaro di luna, accompagnato da buona musica dal vivo e un servizio attento. Lo staff professionale e cortese della struttura saprà accontentare le vostre richieste e proporvi le migliori soluzioni per ogni fase del vostro evento, trasformando i vostri sogni in un'indimenticabile giornata. Presso l'azienda agrituristica Masseria Casa Massima potrete assaporare il gusto autentico dei piatti regionali preparati con sapienza e attenzione dagli chef, sempre pronti a stupire i propri clienti con un tocco di creatività e deliziosi prodotti tipici elaborati direttamente dalla ditta o da altre aziende locali. La bellezza della masseria Casa Massima, unita alla qualità dei servizi offerti, contribuirà alla perfetta realizzazione del vostro evento, rendendolo indimenticabile per voi e per tutti i vostri invitati.